Un ricordo di Giolle che ha fortemente voluto questo cortometraggio per comunicare una nuova calabria, non più in bianco e nero, ma piena di colori. Lei voleva una calabria smart, l'aveva definita, cioè voleva raccontare una calabria che avesse la forza di convincere e di innamorare e io ho fatto questo racconto, che è un racconto d'amore, è un viaggio d'amore, cercando di seguire questa sua visione e di fatto poi facendola facilmente mia perché è stato un luogo che mi ha affascinato moltissimo anche per la sua varietà e la diversificazione del territorio e la mutevolezza proprio delle zone che attraversi semplicemente viaggiando.